In arrivo novità sulla tanto attesa rotatoria all'ingresso dell'autostrada azzurra a Cerveteri. La sindaca Gubetti ha incontrato i dirigenti di autostrade, i quali hanno riferito che nel 2024 partiranno i lavori. Il progetto per la realizzazione della rotatoria finalmente è pronto, Autostrada S.p.A. è pronta a iniziare i lavori, non appena termineranno tutta la fase di autorizzazioni e questa è una grande svolta per il nostro territorio. La messa in sicurezza dell'accesso in autostrada sarà un importante deterrente agli incidenti. La rotatoria intanto verrà realizzata senza bloccare il traffico perché è stato fatto un progetto che rende possibile la realizzazione della rotatoria in sei mesi senza il blocco del traffico.